Fondi e SICAV incontra Paolo Proli, responsabile della distribuzione retail di Amundi SGR. Che cos'è la disruption per Amundi? La disruption è un concetto molto importante, al di là della parola in inglese ovviamente significa un cambiamento di processo, di prodotto, di servizio e il cambiamento è proprio un vero e proprio game changer si dice in inglese, quindi un cambiamento dirompente, di atteggiamento, di richiesta. Tra virgolette i motori del cambiamento, lo sappiamo benissimo, sono fondamentalmente due. I bisogni e quindi il cambiamento dei bisogni e adattarsi ai nuovi bisogni e l'innovazione tecnologica o comunque l'innovazione to cure. Innovare vuol dire ovviamente poi avere gli stimoli giusti per poter produrre nuove cose che possono essere prodotti ovviamente in manifattura ma possono essere ovviamente anche servizi e che vanno soprattutto a colmare quel gap tra domanda ed offerta di un mondo che continua a crescere, a svilupparsi e a modificarsi. Quindi le esigenze cambiano nel tempo e la disruption non è nient'altro che adattarsi al cambiamento epocale che stiamo vivendo con mega trend di lungo termine di demografia, di sviluppo economico e servire e rispondere a domande di consumo che appunto si adattano rispetto a questi nuovi bisogni e che chiedono ovviamente nuovi servizi e nuovi progetti. La disruption non è nient'altro quindi che assecondare tutto questo. Fare disruption vuol dire cambiare. Perché la disruption rappresenta un tema di investimento interessante? E' una risposta facile questa perché è intuibile che chi cambia secondando le richieste di un mondo che appunto si evolve e che chiede cose diverse vuol dire rispondere alle domande di prodotto e di servizio quindi vuol dire intercettare gli utili futuri. Oggi le aziende tra le altre cose sono sicuramente molto stimolate in un'ottica di cambiamento, di rinnovamento perché appunto c'è in nato un enorme cambiamento generazionale. Gli usi costumi dei millennials o della generazione Z sono completamente diverse invece dai baby boomers o addirittura dai silent. Abbiamo un mondo che ha delle esigenze proprio in un'ottica di terra e di sostenibilità oggi fondamentali perché il vecchio modello economico non è più sostenibile né dalle risorse né da una popolazione che a livello demografico nel 2050 vedrà la terra essere popolata da 10 miliardi di persone. Il mondo da un punto di vista anche socio-economico sta cambiando gli Stati Uniti non sono più il motore economico, i dominatori di quello che è lo sviluppo dell'asset di crescita internazionale ma sono quei mercati cosiddetti emergenti che non sono più emergenti ma sono emersi come la Cina, come l'India e che quindi hanno un altro modo di vedere le cose, di produrre, di venderle e sicuramente la disruption diventa per queste aziende essere protagoniste nel momento di cambiamento e quindi creare maggiori utili più resilienti per il futuro e quindi intercettare i trend di crescita di quello che sarà il mondo del domani. Quali sono gli impatti della pandemia su questo mega trend? La pandemia è stato un fortissimo acceleratore. Il mondo del domani è quello dell'oggi. Quello dell'oggi è già molto diverso da quello di ieri. Io faccio spesso questo passaggio, ringrazio una frase famosa di Albert Einstein che dice non è importante guardare al futuro perché tanto arriva subito. Ecco, oggi il Covid ci ha fatto vedere subito il futuro, nel senso che l'abbiamo vissuto, il distanziamento, il contactless, il concetto dell'olatom che sono ad esempio ormai dei settori industriali che non esistevano prima ma che sono diventati precipi, fondamentali. Oggi da casa facciamo tutto, abbiamo il contactless, abbiamo lo studio per i nostri figli direttamente in casa, abbiamo bisogno di piattaforme di webinar, abbiamo bisogno di farci visitare da un punto di vista sanitario direttamente da casa e sto citando delle cose, dei servizi che non a caso sono poi affrontati da alcune industrie, alcune società virtuose che hanno già la modellistica, la digitalizzazione implementata e sulle quali noi ci appoggiamo oggi in una fase di distanziamento sociale provocato dalla pandemia che ci porta ad avere un modello di consumo di quello che facciamo diverso da quello precedente fisico. Ecco, poter intercettare ovviamente questi cambiamenti in maniera ciclica è molto molto importante anche in una fase di investimento e quindi il Covid ha accelerato alcune dinamiche, altre probabilmente sono andate in obsolescenza, pensiamo anche solo alcuni settori che stanno oggi avendo delle difficoltà incredibili, pensiamo alla ristorazione così come la conoscevamo, non tanto l'e-commerce o il fatto di poter fare delivery che poi invece subentra magari come motore di vendita e di opportunità ma ovviamente quello che era il vecchio modello oggi dovrà essere anche rivisto, pensiamo ad esempio ai voli e al turismo quanto oggi sia stato messo sotto stress e sarà ancora messo sotto stress, probabilmente ritornerà post Covid a ritrovare il suo fasto ma indubbiamente ci muoveremo, faremo le cose comunque anche in maniera diversa, cioè porteremo oggi nel modello di oggi anche cose che prima non eravamo abituati a fare a qualsiasi età. Oggi io ad esempio vedo molto più spesso mia madre in Trentino attraverso FaceTime e comunque attraverso un webinar che non magari fisicamente prima e quindi a distanza l'abbiamo accorciata attraverso la digitalizzazione. Questo sta avvenendo dappertutto in ogni settore merceologico, in ogni attività dell'essere umano e quindi penso che il Covid non abbia fatto nient'altro che accelerare questa trasformazione digitale.